Grazie a tutti. Buon venerdì 5 novembre, le notizie di oggi, controllo velocità sui corsi Grossetto, Giulio Cesare, Peschiera, Sacro Evanzetti, Francia, Vercelli e vie Zinozini e Botticelli, semafori manutenzione in Corsa Agnelli, Angolo, Via Dina e Corso Tazzoli, sino a domenica al Parco della Pellerina, Luna, Parca Autunnale, allo Vallingotto, Artissima 2010 e in Piazza Vittorio Veneto, eventi in occasione dell'incontro tra giovani per Torino, capitale europea dei giovani, sino a lunedì, Paratissima 2010 a San Salvario, Artò, il salone dell'eccellenza artigiana Lingotto Fiere, in Piazza Castello prove della cerimonia giornata delle Forze Armate, in Via Ciornaia 15 proseguono le riprese cinematografiche del film Ti amo troppo per dirtelo. Alle 12 in Sala Carpanina, Palazzo Civico, viene presentata una bella iniziativa, la salute in comune, informazione e risorse che superano le barriere, un'iniziativa 4 volumi, dedicata alle persone disabili. Lunedì sciopero di 4 ore della Federazione Trasporti RDB, servizio urbano e suburbano bloccato dalle 17.45 alle 21.45, metropolitana dalle 17.30 alle 21.30, autolinea extraurbane dalle 10.30 alle 14.30, ferrovie Torino-Ceres-Canabesano dalle 9.13, maggiori informazioni numero verde del GTT 800 019 152. E' tutto, buona giornata, buon viaggio. Le giornate avremoハmbio domani,梓 C Kyle a partire dalla serata, a partire dalle 22.30, dovrebbe iniziare a piovere, nel corso della giornata invece avremo nebbia abbastanza diffusa, soprattutto nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, cielo coperto nel resto della giornata, temperatura in lieve diminuzione sui 14.00 e infine domenica avremo pioggia, quindi la nebbia ci abbandonerà per far posto alla pioggia. che occuperà quasi tutta la giornata, la previsione ci dice che verso sera invece ci sarà un rasserenamento con la fine della pioggia intorno alla fascia preserale, quindi verso le 18-19 le temperature si manterranno sui valori di queste due giornate che abbiamo davanti. Passando invece agli appuntamenti istituzionali, vi segnalo che questa mattina al centro congressi Torino incontra l'assessore Curti sarà presente in presentazione alla stampa del rapporto dell'osservatorio statistico interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino per quanto riguarda l'anno 2009. Poi questa mattina il Sineco riceverà a Palazzo Civico alle 11.30 l'ambasciatore dell'Equador Carlo Vallejo Lopez e infine alle 17.30 all'Unione Industriale il Sineco parteciperà a un dibattito con il giornalista e scrittore britannico Bill Emmott che viene organizzato dalla Rete per l'Eccellenza Nazionale. Passando ora alle notizie di Torino Click, l'agenzia quotidiana della città che trovate in formato PDF sulla nostra home page, un numero quello pubblicato ieri sera è interamente dedicato o per buona parte dedicato alle luci d'artista e ad artissime paratissime che caratterizzeranno la città in questo weekend. Vi segnalo però altre due notizie. La prima riguarda la caserma di via Bologna che viene assieme ad altre caserme e proprio oggi diventa di proprietà della città in seguito di un accordo col Ministero della Difesa. Si tratta delle caserme Ettore e de Sonnaz nella via omonima, della caserma Cesare di Saluzzo in corso Valdocco, di quella Alessandro Lamarmora in viasti e proprio del magazzino di artiglieria di via Bologna 190. Sono accordi che prevedono che questi immobili e i relativi terreni vadano alla città e che provvederà ovviamente a inserirli in delle operazioni immobiliari per quanto riguarda la riqualificazione dell'area nord della città. Un'altra notizia è quella che riguarda invece via Cecchi. Vicino alla Torino Ceres, gli abitanti del quartiere Aurora lo sanno perfettamente, c'è un'area pubblica che si è liberata in seguito alla demolizione di un palazzo che non è mai più stato ricostruito. Ebbene quell'area venne utilizzata come spazio dagli abitanti del quartiere. La città ha deciso di creare un giardino, un'aiuola in quella zona della città. Ieri è stato deliberato lo stanziamento per questo giardino di circa 5.000 metri quadri. La gara sarà indetta entro l'anno. Si prevede che i lavori cominciano a primavera per poter consegnare alla cittadinanza il giardino nel mese di giugno del prossimo anno. Qualche dettaglio in più lo trovate nell'articolo di Torino Click. Ora andiamo sulla nostra home page, andiamo a vedere la notizia che abbiamo scelto per voi questa mattina, tra quelle pubblicate in prima pagina. Si tratta di obgetto, come sapete da qualche settimana ormai, anche qualcosa in più, è online il nuovo sito di obgetto, che è sostanzialmente la linea di prodotti e di souvenir della città di Torino. Trovate a partire dal sito tutte le possibilità di acquisto in questo campo. Un'occhiata al traffico adesso con le telecamere del Consorzio 5T. Andiamo a vedere la situazione sul Po. Qui siamo in Corso Moncalieri in direzione nord. Come vedete non ci sono problemi, è un po' di più invece in direzione sud nel verso opposto di marcia. Qui siamo invece in Piazza Derna in direzione sud, quindi sull'asse di Corso Giulio Cesare per arrivare nel centro cittadino. Come vedete abbiamo parecchio traffico per entrare nella rotonda di Piazza Derna. Rondo della Forca, direzione di Via Cigna. Come vedete parecchie auto in risalita dalla Dora verso Piazza Statuto. Classica coda al semaforo sul Corso Regine Margherita. E qui invece siamo in Corso Vittoria all'angolo con Corso Massimo D'Azeglio. Anche qui un po' di traffico, ma a dire il vero niente di particolarmente complicato. Bene, è tutto per quest'oggi. Grazie per averci seguito. Io vi auguro una buona giornata. Ringrazio Mario Parena per la messa in onda e anche l'augurio di un buon weekend. Ringrazio Mario Parena per la messa in onda e anche l'agurio di un buon weekend.